Trae a mare ma soprattutto Tortora Centro Storico, quest'anno la terza edizione di Natale on the road dell'associazione Teniamoci per Mano si è svolta maggiormente tra i vicoli del centro storico del paese alto tirrenico. Aiutati dai componenti della protezione civile gruppo locale di Tortora, i ragazzi diversamente abili seguiti dalla Onlus fondata da Franca Parise hanno dispensato pacchi regalo ad anziani e ad allettati. Emozioni che l'associazione ha voluto immortalare in queste immagini che ci ha donato e che testimoniano l'apprezzamento di chi soffre verso iniziative del genere. Manifestazioni, ha detto la Parise, che andrebbero svolte più spesso perché al di là dei pacchi regalo che hanno un valore per lo più simbolico, ciò che davvero lascia sbalorditi i tanti cui abbiamo fatto visita è l'attenzione verso di loro. Proprio questo, insomma, l'attenzione verso chi soffre è elemento che spesso manca e che a Natale diventa ancora più insopportabile, soprattutto per chi giorno dopo giorno si scontra con la malattia e la solitudine. E allora basta poco, un pacco, un po' di musica, un po' di calore umano e tanta buona volontà. La volontà non solo degli organizzatori ma anche di questi ragazzi diversamente abili che tante volte la società mette all'angolo ma che però capiscono e reagiscono. E le lacrime di gioia scivolate ieri pomeriggio lungo i visi dei diversamente abili e dei cosiddetti normali hanno avuto lo stesso sapore, a testimonianza che il signore nasce ogni giorno nei cuori di chi sa commuoversi davanti alla fragilità dell'altro. E proprio da qui spicca il volo, la solidarietà, cosa ben diversa dalla pietà. L'associazione Teniamoci Parmano ha anche voluto ringraziare l'assessore alle politiche sociali di Tortora Anna Fondacaro per la collaborazione dimostrata. Per il resto abbiamo semplicemente preferito commentare queste immagini senza entrare troppo nei particolari, affinché siano le vostre emozioni a guidarvi. Buon Natale!